L'ultimo fine settimana di agosto per la maggior parte degli italiani segna il ritorno a casa dopo le vacanze, ma per molti altri è l'inizio delle ferie nell'ultimo scampolo d'estate. E quindi tra rientre e partenze questo fine settimana sarà da bollino rosso per il traffico intenso su tutta la rete stradale ed autostradale, soprattutto in direzione delle principali città. A Napoli, grossa affluenza di turisti e viaggiatori, dai per le isole del Golfo, per godersi gli ultimi raggi di sole prima di rimettersi al lavoro. Andiamo a Ischia, oggi è domani e basta, poi è finita già l'estate. Sono anche i primi, mi sa, i primi e gli unici. Sperando di ricominciare a lavorare per bene. No, veramente cominciano ora. Le vacanze? Sì. Dove siete diretti? Ischia, Ischia. E poi? E poi niente, si ritorna a casa. Ultimi scampoli di vacanza, ultimo weekend prima di iniziare a lavorare? No, perché sono io in ferie da adesso, questo volevo dire. Quindi vado un attimo a Capri e poi vado a trovare i miei in Puglia. Basta. E poi torno a lavorare a metà settembre. Una vacanza brevemente intensa. Grazie.